L'ingegnere deve spazzare via quel fortino! Non finisce qui! Daniels, scorta Parker e fagli piazzare una carica su quel bunker! Sì, sergente! Daniels, avvisami quando sei pronto! Tieni giù la testa e vai! Avanti! Via, via, via! Fuoco di copertura! Fuoco di copertura! Mitragliatrice plascata! Dimmi quanto posso andare! Via, via, via! Eccomi! Veniamo occupata con la mitragliatrice! Mitragliatrice è andata! Aspetto il tuo segnale! Adesso, Parker! Io vado, caprimi! Ozza! Fuoco sulla mitragliatrice! Rook in arrivo dalle trincette! Non abbassare la roba! Tiro una granata! Occupati della mitragliatrice! Dal bunker non sparano più! Aspetto il tuo segnale! Via! Va bene, copritemi! Prese! Affidate il tuo segnale! Non mi fai ne brise! Stragliatrice è bloccata! Adesso, Parker! Vado! Caricati azzate! È esplosa troppo presto! Carica di merda! Bunker! Grazie! Grazie a tutti